il maestro camilleri come sta male sono rimasto in panne in autostrada per fortuna sono arrivati immediatamente i soccorsi i carattrezzi mia moglie con una stecca da segarelli la smetta e senta qua parte la rotamazione fiat fino a 3500 euro per il tuo usato che vale zero e in più cinque anni di garanzia ma a lei che auto piacciono ovviamente le nazionali